L'obiettivo del programma operativo nazionale conosciuto come PON Sicurezza 2007-2013 è quello di migliorare le condizioni di sicurezza nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, per colmare il divario con il resto dell'Italia dal punto di vista delle condizioni socio-economiche, della dotazione infrastrutturale e della diffusione dei servizi. Il programma è cofinanziato al 50% dall'Unione Europea e dallo Stato italiano ed il titolare è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che affida la gestione dei fondi alle forze di polizia e dalle istituzioni locali. In questo ambito il Comune di Napoli ha realizzato quattro progetti per un importo complessivo di circa 5 milioni e 700 mila euro con due importanti risultati. Anzitutto quello di aver dimostrato una capacità di spesa che supera il 73% dei fondi stanziati, rispettando anche i termini previsti dal Ministero. Ed inoltre aver fatto risparmiare allo Stato e dall'Europa un milione e mezzo di euro, avendo speso in totale poco più di 4 milioni e 170 mila euro. Sono quattro gli interventi realizzati dal coordinamento programmi e grandi progetti, tutti con l'obiettivo di diffondere maggiori condizioni di sicurezza e legalità. Il Centro di Accoglienza e Supporto Territoriale Grazia Deledda di Soccavo, inaugurato lo scorso luglio e gestito dall'Associazione Centro Lima, ospita famiglie Rom ed offre attività sociali di scolarizzazione, ricreative e sportive, oltre a vigilanza sociale e contrasto alle devianze. Attualmente sono presenti 113 persone in 32 nuclei familiari con 50 minori. Il Centro di Urno Polifunzionale Mianvilla a Miano offre numerosi servizi, come i Laboratori di Educativa Territoriale per Ottante Ragazzi. Il Centro per le Famiglie, frequentato da oltre 30 nuclei, di cui 20 con familiari detenuti, è l'orientamento al lavoro per 30 giovani concorsi di ceramica, cucina e multimediale. Le prospettive sono di una maggiore apertura del centro al territorio. Infatti stiamo pensando a delle iniziative insieme alle mamme degli utenti, di poter realizzare un atelier dei sapori con le mamme che comunque producono le antiche ricette napoletane e di un centro che possa comunque essere un punto di riferimento anche per i giovani come attività di orientamento e di formazione al lavoro. La Biblioteca Guido d'Orso di Secondigliano, inaugurata lo scorso settembre, è un centro polifunzionale che oltre alle sale di lettura, fra cui quella intitolata al Gessomina Verde, ospita un internet point con 18 postazioni, di cui 4 per diversamente abili, una ludoteca e sale multifunzioni. Questa struttura è un volano sociale e culturale per quanto riguarda questi territori. Come sempre ho detto, l'unica arma vincente per quanto riguarda la criminalità su questi territori è la cultura e questo spazio deve servire proprio a combattere questi fenomeni. Il Centro di Assistenza e Supporto agli Immigrati, in Vico San Nicola al Nilo, nel cuore del Centro Storico, svolge attività a favore degli immigrati, a partire dai corsi di lingua frequentati da 800 persone, con dispositivi informatici e cucina attrezzata per 6.000 pasti mensili, uno sportello informativo per un'utenza di 400 persone e 1.000 partecipanti alle attività di socializzazione e scambio culturale. Oltre alle lezioni di lingua e cultura italiana ci sono anche dei momenti di incontro che noi chiamiamo di genti di pace, un movimento che è nato proprio per favorire l'integrazione dei nostri studenti e quindi per favorire così un incontro di culture diverse e di convivenza. Infatti come potete vedere la nostra scuola è un po' un piccolo mondo, ci sono studenti di tante nazionalità diverse, un punto di riferimento, quindi una piccola famiglia, anzi una piccola grande famiglia in cui si può tornare sempre.